salve a tutti ragazzi siamo franco e francesco e oggi che cosa faremo franco oggi faremo la recensione di cattivissimo me for bene ragazzi l'altra sera siamo andati al cinema a vedere questo nuovo film di cattivissimo me insieme a un nostro amico di sei anni che avevo citato nel post community in cui facevo la mini recensione post di inside out 2 bene ragazzi ci siamo divertiti un casino allora di che cosa parla questo film allora in questo film troviamo gru che è sposato come già era successo nel 3 no nel secondo nel secondo vero e in questo caso ha un figlio piccolissimo che si chiama gru junior che non sappiamo quanti mesi ha e questo bambino all'inizio del film fa molto ridere perché non sopporta suo papà come io da piccolo non sopportavo mia madre e allora il film inizia così che gru con gru che deve catturare un super cattivo messicano mi sembra messi francese era forse francese non lo so comunque deve catturare questo super cattivo e già nella prima scena si vede che lui lo cattura però quando lo cattura lui gli giura vendetta il cattivo è una specie di scarafaggio si è trasformato in uno scarafaggio e cosa succede che quindi gru cattura questo personaggio questo cattivo ma lui riesce a scappare e allora l'associazione per la quale lavora gru decide che loro devono andare in un posto sicuro perché altrimenti il cattivo di turno li prende quindi perciò hanno deciso di cambiare nome e cambiare città e vanno in una città stranissima dove conoscono una ragazza con i capelli lunghi pop 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 qualcosa del genere questa qua riconosce gru che prossimamente apparirà negli universi stagione 4 stagione 5 questa qua riconosce gru e lo minaccia dice se tu non mi aiuti a fare un colpo io rivelo a tutti chi sei allora gru è costretto a fare il colpo con lei e cosa vuole rubare un furetto del miele che si trova nella scuola di ladri di gru dove gru ha fatto la scuola quindi comunque fanno questa missione riescono a rubare il furetto ma la preside della scuola che è una signora anziana sulla sedia a rotelle che si trasforma in una super macchina questa sedia a rotelle ah si giusto in questo film c'è un minion gay la vede lo vede e quindi chiama il cattivissimo che nel frattempo è riuscito a sfuggire dal carcere e gli dice dove abita gru nel frattempo c'è una sottotraccia nella quale i minion sotto trama o sotto trama nella quale i minion vengono almeno cinque minion vengono trasformati in supereroi però questi supereroi sono solo dei ritardatari come team titans go cioè va bene che salvano la città di tutto ma lo fanno in un modo grottesco sì e poi sono dei comunque questi cinque sono dei riferimenti ai fantastici quattro infatti c'è uno che si trasforma nella cosa ovvero tutto in pietra un altro che è una specie di plastic man è che in una scena ripercorre una scena del treno di spider man non ricordo se spider man 2 3 bu non me lo ricordo quando cerca di fermare il treno con con le braccia e quando pensavo che questo minion stava per fare qualcosa di buono rispetto agli altri suoi compagni distrugge anche lui il treno e quindi tutti quanti se la prendono con loro e il capo li manda in pensione ma quando scoprono che il cattivo di turno ha scoperto dove abita gru li richiamano e quindi cosa succede che sia la preside che il cattivo di turno vanno da gru questo cattivo riesce a rapire il figlio di gru e gru deve fare delle peripezie per salvarlo il film naturalmente finisce che gru riesce a salvare suo figlio e vi sono tutti felici e contenti ah sì intanto c'è un alla fine del film nei credits c'è questo minion che è rimasto intrappolato è vero che fa molto ridere in una macchinetta quelle per per il cibo e ragazzi cosa possiamo dire di questo film è molto bello è piaciuto tanto ci ha fatto molto ridere è molto bello questo film soprattutto che è un bel 9 e mezzo sì un bel 9 e mezzo e nulla ragazzi questa è la nostra accensione di cattivissimo 4 fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto o no questo film a noi ci è piaciuto noi ci vediamo alla prossima ok ciao a tutti ciao ino ciao etto